È un regolamento che forse è destinato a complicare la vita ai commercianti che chiedono autorizzazione a installare tavoli e sedie all'aperto nel centro storico come negli altri luoghi di Polignano. Solo la domanda prevede 26 allegati diversi, tra piantine, marche da bollo e nulla o stavari, quando si dice la burocrazia. Il rilascio dell'autorizzazione è persino soggetto a conferenza dei servizi, ma non per tutti e a discrezione del dirigente di settore. Il regolamento aggira l'ostacolo scrivendo la parola ove necessario. In aula la maggioranza spesso ha dato la colpa alle prescrizioni imposte dalla ASL, ma non esistono allegati al regolamento che indicano di quali prescrizioni si tratti né a quali leggi fa riferimento. La domanda va protocollata al comune sul modulistica rilasciata dall'ente, ma non provate a fare da soli. Nell'era di internet a Polignano ci vuole comunque un tecnico che firmi la pratica. E' economia anche questa, se volete. Rispetto a prima sarà possibile installare Deoro in via Sarnelli e in via Dogali, ma solo quando le strade sono chiuse al traffico. Le strutture andranno sul marciapiede purché sia lasciato uno spazio di due metri per il passaggio pedonale. Altra novità, i Deors permanenti, installati tutto l'anno ma attivi solo nella bella stagione e comunque dopo preventiva richiesta. Nulla cambia sui materiali da utilizzare, quali il vimini, il legno o la resina trasparente. Per quanto riguarda la musica esterna nei Deors si rimanda al piano di zonizzazione acustico che ancora non è stato attuato o anche qui alle norme ASL. Se è tutto chiaro, in bocca al lupo a quei coraggiosi commercianti che vorranno lavorare all'aperto tra le strade di Polignano.